avere i capelli a zero era come denunciare la propria miseria testimonianza di maddalena andreis nata a marmora frazione tolosano classe 1910 contadina noi eravamo cinque bambini il primo aveva nove anni mentre stava per nascere il sesto avevamo una capra allora mio padre ha dovuto andare in america perché c'erano i debiti da pagare nel 1914 è andato nell'america del nord a san francisco da manovale in una segheria qui a marmora faceva il butale quando mio padre è partito per l'america io avevo quattro anni ricordo che tutti piangevano là in america vivevano la mia madrina e il mio padrino erano loro che avevano spedito a mio padre i soldi per il viaggio mia madre ha tribolato tanto per allevarci man mano che noi crescevamo ci mandava al pane degli altri io sono stata affittata due anni al preit avevo otto anni e lavoravo dal mese di san giovanni fino a settembre mi guadagnavo il grembiule della scuola ed ero mantenuta andavo al pascolo ogni sera c'era un po' di minestra a colazione gli avanzi della minestra della sera poi partivo con la taschetta un pezzo di pane duro che bagnavo nell'acqua rosicchiavo tutto il giorno quel pezzo di pane avevamo i denti buoni la borgata di tolosano in quegli anni era un formicaio c'erano 17 famiglie dal mio ricordo e la famiglia più piccola era la nostra con sei bambini vivevamo malamente mangiavamo lenticchie orzo e la polenta di segala e tante trifulos tante patate a noi ragazze mia madre diceva mangia lenticchie minestra delle ragazze e ragazzi mangia fagioli minestra dei ragazzi madre faceva la frittata sfregavamo solo la polenta contro la frittata che prendesse un po' di gusto un po' di odore eppure le nostre facce erano grasse così e bianche e rosse e mai malati le nostre abitazioni erano case rustiche ma noi dormivamo nelle lenzuola non nei giancigli come sono stata un po' grandicella altina sono andata da serventa al colle guadagnavo poi già 220 lire al mese tanto lavoro ma stavo bene pasta asciutta pane molle un bicchiere di vino nel buono del lavoro alla fine di settembre scendevamo a chiusa pesio a raccogliere le castagne sul mercato di chiusa pesio eravamo sempre una quarantina di ragazze tutte della vallata ad affittarci la prima volta io avevo 14 anni ed ero là con una mia sorella guadagnavamo lavorando ottobre e novembre fino a santa caterina 250 300 lire il lavoro era pesante dalle 4 del mattino fino a notte un anno i padroni mi hanno regalato 50 chili di castagne come premio e contenta che ero mi sono portato sulla schiena quel sacco per 5 chilometri dalla cascina fino a chiusa pesio quel regalo voleva dire mangiare la minestra di castagne lungo l'inverno e se ne facevano delle economie quando avevo sei anni ho venduto la prima volta i capelli avevo una capigliatura che scendeva fine ai piedi madre ha rimediato 70 lire e con quei soldi ci ha vestiti tutti a 11 anni li ho dovuti di nuovo vendere i capelli quanto pianto me li hanno tagliati proprio a raso proprio a zero sono andata tutto l'anno a scuola con la berretta e le amiche ridevano 75 lire li avevano pagati io provavo vergogna erano i più poveri che vendevano la capigliatura avere i capelli a zero era come denunciare la propria miseria intanto mio padre mandava i primi soldi dall'america mia madre pagava i debiti e comprava una vacca e comprava qualche pezzo di terra prima avevamo niente solo una capra ma malgrado la povertà mia madre era sempre riuscita a non farci fare la fame noi andavamo anche a raccogliere le erbe medicinali violette tè genziana rimediando quelle 200 lire per stagione nel 1924 mio padre è tornato dall'america con 30.000 lire di risparmi ha comprato una casa un po di terra ha fatto diversi strumenti a 18 anni mi sono sposata allora la tradizione era che la sposa subito dopo il matrimonio doveva andare dai suoceri e a cantare martina la sposa stava fuori dell'uscio e dall'interno della casa la suocera diceva cantando chi è che lì fuori o sono io madonna sangue del mio o sono io madonna cosa ti sei comprata maddalena bel cappello madonna sangue del mio un bel cappello madonna quando la canzone stava per finire la suocera apriva la porta di casa e una volta qui era un po come nella bassa italia adesso succedeva che i giovani rubavano le ragazze per sposarle ne sono capitati tanti casi così